Si ringhe, pozze di sangue, anche con delle gocce che arrivano fino alla stazione, è una cosa vergognosa. Io vivo, lavoro in questo posto da 25 anni, ma vi assicuro che è diventato un Bronx, una cosa dove io, guardate, a quest'ora del giorno io non mi sento sicura di portare fuori il mio cane. È una cosa vergognosa ed è inutile continuare a dire che bisogna fare qualcosa, perché tanto non cambia niente. Noi qua siamo ormai tutti disperati, non sappiamo più veramente a chi doverci rivolgere. È una cosa vergognosa. Io ho visto fare scambi di droga e di soldi. L'altra sera io ero qua nel supermercato, ero fuori con le buste, stava piovendo, e sento un ragazzo che si avvicina a una persona che se la vedevi era assolutamente dismesso e si avvicina a quest'altro ragazzo e gli fa, hai bisogno di qualcosa, vuoi qualcosa, vuoi un po' di coca? Io mi sono girato e ho detto, ma non è possibile. Ma non è possibile, ma non esiste più al mondo. Io ho il diritto, ho il diritto di non vedere queste porcherie. E lo Stato, chiunque, i sindaci, chiunque, la polizia, gli stessi vigili urbani, la devono finire di venire solo a fare le multe, ma dovrebbero cominciare a guardare questi disgraziati che delinquono. Vabbè, io ho un'azienda che vendo al pubblico e qui vicino a Bobini io passo e vedo questo disperato che si stava facendo sulla mano. Mi sono girata, ho detto, ma cosa fai? E qui sono borbottato qualcosa, ho chiamato il 114, il 18, non mi ricordo neanche, ma sono arrivati, questo se n'era già andato. Ma è una vergogna. L'altro giorno, sabato, vedo una siringa in mezzo alle macchine lì e poi c'era un altro disperato, ubriaco, che stava facendo la pipì in piedi, attaccato su una macchina. Ma vi sembra una cosa giusta questa? Siamo stufi, è una vergogna e si politicizza tutto, ma bisognerebbe veramente che noi italiani per prima, ognuno di noi, ci mettesse la faccia e cominciasse a scendere in piazza. E le persone che non hanno il diritto di starci, ma che se ne vadano, bisogna mandarle via. Solo chi lavora, solo chi è referenziato, solo chi ha il diritto ed è un cittadino legalmente riconosciuto, ha il diritto di stare qua. Ripeto, io sono una mamma grande, ho un figlio di 10 anni e sono preoccupatissima di quello che succederà al mio bambino. Io non so che futuro e che società gli spetta. Scusatemi, è uno sfogo, ma veramente io vivo qua più ore che in via 25 Aprile dove ho la casa e vi assicuro che a me mi fa paura questa cosa, io non so proprio più come poter fare per gestire il tutto.